bello cappuccino buono da schiuma buono da schiuma non entro per la colazione buongiorno raga look of the day stiamo andando a frangeretto con Dani e mi sono messa questo set di Oceans che lo amo questi nuovi set leopardato e zebrato li sto usando tantissimo anche proprio come lifestyle cioè per uscire non per allenarmi perché li amo, guardate con una felpa sopra uno stivaletto, guardate che carini e l'ho messo anche tipo con un taglier e un tacco bellissimo poi la cosa bella è che raga io sto a dieta perché ho messo 4-5 kg ma questi fasciano un sacco cioè la pancia non si vede proprio e rassodano un sacco sia il seno che il gluteo quindi li amo mi sento proprio confi quando li indosso a differenza magari, cioè voglio stare comoda se mettessi un jeans o un tutone mi sentirei enorme invece così mi sento snella e bella sono anche fashion e carina dopo vi faccio vedere tutti gli altri set vi dico già che in questo vlog avete una promo più alta di sempre perché avete il 40% di sconto e senza spesa minima quindi pagate tutto quasi la metà comunque vi metto il link nel box info e poi nel corso del video vi farò vedere altre cose perché ne ho presi tantissimo sono tutti stupendi e quindi mi sento niente è bano il mare il mare il mare il mare vuoi andare al mare ragazzi sta benissimo adoro sembra estate qua c'è anche il castello il castello questa giacchetta poi è anche di Oceans super caldissima ragazzi guardate che bello è il castello e qua quando camminate su questa strada oh amore a mamma che c'è? sentite un odore di pizza troppo bello ma noi siamo a dieta no ma è bello eccolo il castello guarda un'esca anche detto Ocastile Love Love Ocastile Love mmmm guardate qua siamo proprio sul mare uscire a vedere che stiamo proprio sul mare uscire a vedere che stiamo proprio sul mare potete portare due maccioline vicino alla piazza il caffè, la verde, la rizzetta, la piazza, la piazza, la piazza e la piazza e la piazza Daniel ha mangiato tutta la pizzetta fai dire la pizzetta a mamma tutta la pizzetta tutta la pizzetta com'è la pizzetta? amore fai un saluto a tutti ciao ragazzi saluto da Napoli Napoli B li aspettiamo siamo qui in vacanza noi tutta la nostra vita è in vacanza ma c'è un saluto a tutti ma c'è un saluto a tutti see sono per bunny ora quasi ah mangia la pizzetta oh 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 we, we, we dove è andata nonno? mangia la pizzetta Sono andati solo Tornata a casa Un bel caffè Ci vuole raga Comunque stavolta le unghie le ho fatte Color latte E' bevuto anche lui amore Ciao Ma ma se c'è nel caffè Anche i pupi E cambiare perché mi devo allenare Vi dico già che tra i set o chance Visto che voi mi chiedete sempre Su instagram ma anche quali sono i miei preferiti Vi straconsiglio Questi quattro Che sono per me i più belli In assoluto e sono anche gli ultimi Perché sono ancora più push up Modellanti, snellenti Io veramente li amo E poiché avete il 40% Col codice carità dolce 40 Senza spesa minima Approfittate perché li pagate quasi tutti la metà E' veramente una promo La più grande mai avuto Questo che ho indosso ora Ve li faccio vedere così Proprio senza metterci lampade O luce così Vedete il colore Proprio effettivo Questo è bellissimo Ed è mia Questo qua l'ho guardato E Serina Questo qua Zebrato Li amo raga Hanno dentro anche le coppe Che ho qua tra l'altro Le ho tolte Sono favolosi Super push up Poi guardate Snelliscono un sacco La vita Effetto push up Anche sul gluteo Guardate vedete E sono belli anche da indossare Tipo con una giacca Con un tacco Per uscire Quindi questi due Anche per uscirci Invece Se volete qualcosa Proprio prettamente Per allenarvi Io vi consiglio questi due Sono sempre nuovi Questo ha un effetto Un po' Zebrato Leggermente Che però c'è anche in altri colori Sul nero Si nota di meno Quindi resta molto Semplice Non appariscente Ma c'è anche di altri colori Sul sito Tipo c'è un bel fucsia Che è bellissimo Secondo me anche in primavera Io me lo voglio prendere Ed è Veramente bello Questo modello Questo là È Alanis Che sono appunto I miei due ultimi Che ho preso Che sono favolosi Perché hanno il bra Che è super imbottito Che poi volendo Le potete anche togliere Le imbottiture Fa un effetto bellissimo Del seno Con anche questa fascia E Effetto bellissimo Anche sul gluteo Vedete Questo è il leggings Che ha anche una bella fascia in vita E poi sopra Hanno queste maglie crop Che io adoro Troppo ragazze Perché praticamente Tipo se vi allenate Avete freddo Vi lasciate la maglia Poi se vi riscaldate Ve la togliete E restate col top E Indossandolo tutto insieme Diventa tipo una tuta Ma dopo vi faccio vedere Me lo metto È bellissimo E questo qua Invece È l'ultimo che ho preso Adesso me lo voglio mettere Il Naila È bellissimo Perché anche questo qua Ha il top A parte che è questo viola grigio Che a me piace un sacco È veramente un colore Che io amo È sempre il top Con le coppe Che potete rimuovere La maglietta a costine Sopra Super super carina Crop bellissima E guardate Il pantalone sul gluteo Cioè È pazzesco Perché ha proprio La forma del gluteo Fa veramente un sitile bellissimo Vedete Bellissimo È anche il punto vita Con questi fascioni Che sono super confi Quindi sono comodi Ma sono super confortevoli Cioè Io adoro Veramente Cioè Io uso solo Oceans Prima E li utilizzavo tantissimo Per allenarmi Ma Nell'ultimo anno In particolare Negli ultimi mesi Hanno fatto Tutti questi completi Molto fashion E carini Ma anche questo Che sono bellissimi Anche per uscirci Quindi li utilizzo Proprio Per stare in casa Per uscire a far shopping A fare una passeggiata Ma anche per uscire A fare un aperitivo Cioè Noi faccio vedere Mi indosso questo Quanto sono belli Carlita Dolce 40 Il link Ve lo metto Carlita Dolce 40 Ditole anche le vostre amiche Perché non si ha mai Veramente una promo così grande E senza spesa minima Quindi Qualsiasi cosa volete Pagate Quasi metà prezzo Il link Ve lo metto nel box info Raga Allora Vi faccio vedere Il set Serena Quanto è bello Cioè io lo amo Anche per uscirci È pazzesco Io ho tolto le coppe Che mi piace più così Insomma Però anche con le coppe Potete mettere Una fascia Che veramente Fa un punto vita Bellissimo Lo amo Vi faccio vedere Indossato Anche per uscire Tipo Un aperitivo Pomeriggio Raga Cioè Scusatemi Ma Cioè Mi devo Depilare le ascelle C'è un po' di Non scherzo Non ce l'ho davvero Me li devo fare Però Cioè Vuoi essere più Free Non mi applico Su questa cosa Dei peli Non so Ditevi voi Anche un po' di peretti Che fa raga Cioè Non come li faccio Scherzo Allora Guardate quanto è bello Cioè È bellissimo Giacca Vedete Sotto ho messo i tacchi Bellissimo Così Adoro Allora Mentre parlo un po' con voi In realtà Dovrei Alzare un po' Ok Per far vedere Il mio bellissimo Fermaglietto Vi dico questa cosa Mentre prendo il caffè Volevo parlare con voi Di questa cosa Dei capelli Del cambio look Eccetera In effetti La cosa che Anche su Instagram No Avevo Ho postato un po' Di queste foto Di queste storie Appunto perché Tutto è nato Da quando ho fatto La seduta Di armocromia Aspetta che mi tolgo La giacca Perché sto tipo Schiattando Comunque questi Completi di Oceans Cioè sono bellissimi Adesso ve l'ho fatto vedere Con Con i capelli scuri Per far vedere Ma anche alle bionde Sta benissimo Completo Serina Con Con un look Più per uscire Che poi potete utilizzarlo Veramente anche Per andare a fare un giro Per qualsiasi cosa Cioè io adoro Vi giuro Mi piace un sacco Sta benissimo Alle more Ma anche alle bionde Un sacco E approfittate Perché le avete tutti Quasi a metà prezzo Con il mio codice Carità dolce 40 Avete il 40% Senza spesa minima Che non si ha mai Vi metto Il link Le box formazione Dopo vi faccio vedere Anche perché dopo Mi voglio allenare un po' E mi metto Quell'altro che vi ho fatto vedere Che è super super modellante Push up Per Per allenarmi Comunque Vi metto tutti i nomi E tutti i link Le box informazione Comunque A proposito dei capelli Tutto è nato Da quando ho fatto La seduta La seduta di armocromia E praticamente Mi è stato detto Ciò che immaginavo Immaginavo Che comunque Non dovrei essere bionda Ma dovrei essere scura Ma praticamente Su Instagram Ho messo queste foto Cosa è successo In questi giorni E in tantissime Ma proprio tante Mi hanno detto Che sto bene Con i capelli scuri Però ovviamente Questo qua È una parrucca Quindi comunque Sono Sono finti Quindi ovviamente Sono molto lunghi Sono molto scuri Il mio colore di capelli La radice è un po' più chiara Di questa Però era più o meno Per capire I colori Come stava Con la mia pelle Quindi ho fatto un po' Questa prova Ma Il vero motivo Per cui Io ho indossato la parrucca Ho fatto queste foto Non ho detto niente L'ho fatto E un altro Ma in realtà Era proprio per capire Se mi stava bene Quindi non vi volevo Influenzare Perché se io cambiavo Già colore Innanzitutto non ero sicura Volevo una vostra opinione Quindi mi interessa Sapere anche qua Su Youtube Voi cosa non pensate Se io mi rifaccio scura E se volete consigliare Anche una tonalità Perché secondo me Questo è un po' troppo scuro Vabbè comunque Non voglio spiegarvi bene tutto E Dopo poi Era un casino Tornare indietro Se io l'avessi fatto Senza chiedervi Poi perché mi interessa La vostra opinione E Soprattutto Volevo capire Che tonalità Di scuro Perché in tantissime Avete detto Sto medio scura Anche in tantissime Sto medio bionda E devo dirle la verità Quindi comunque L'indecisione resta Non so Però In tantissime Mi avete detto Che questo è un colore Troppo scuro Quindi forse Dovrei scurirmi Ma non così tanto Il problema è che Tanti di voi Mi avete consigliato Un castano Nocciola Cioccolato Con riflessi Con riflessi Dorati Il problema è che Io dovrei essere Fredda Perché la mia Armocromia Sono winter cool Se vi andate a vedere Il vlog che ho fatto L'armocromia Sono winter cool Quindi io sono Fredda Quindi un color Caramello Un color ramato Un color dorato Cioccolato Caldo A me non sta bene Quindi devo essere Fredda Quindi devo essere Un castano Scuro Però non così Scuro Insomma Poi ovviamente Questi sono Ce l'ho buttata dietro Cioè faccio proprio La luna nera La zingara Però sono veramente Molto Cioè sono ovviamente Sul posticcio Perché è una varucca Però è una varucca Ben fatta Adoro A me è servita Poi voglio dire Anche un'altra cosa Innanzitutto Cioè qual è il vero motivo Veramente È il vero motivo Per cui io Deciderò Io penso che lo farò Quasi probabilmente Lo farò Di scurirmi Perché sono dieci anni Che voi mi dite Fatti scura La bella Quando avevi i tuoi capelli Il vero motivo Ve lo giuro raga È uno solo Cioè È uno solo E ve lo confido È per avere capelli Sani e belli E ve lo dico perché Io amo i capelli biondi Vi giuro Cioè mi sento proprio Bionda dentro Io li amo Follemente Però Per quanto io sono una Sapete sono fissata Con l'air care Con tutto Comunque I trattamenti Le tinture Comunque li rovinano Quindi io Veramente Il motivo per cui Io mi voglio oscurire Voglio tornare al mio colore Proprio originale È quello Di averli belli Sani Proprio naturale Di avere i capelli Perché io comunque Prima li avevo Molti più forti Molto più belli Quindi so Infatti io Quando ero incinta Se mi è andata a vedere Le foto Magari se mi ricordo Ve la metto Sono venite su Instagram A vedere Io non mi facevo Le tinture Perché quando ero incinta Non ho mai fatto Non mi mettevo tinture Nulla E avevo un colore Molto molto naturale Perché mi usciva Il mio colore Dalla base Ed era un castano O chiaro Comunque Quel colore A voi piaciuto tantissimo E avevo i capelli Durante la gravidanza Bellissimi Perché non li tingivo Quindi il motivo Sarebbe quello Per avere di nuovo capelli Me li farei lunghissimi Non li taglierei mai Per quello Anche se io amo il biondo Vi giuro Io mi piaccio Cioè io Così non so Mi piace Che comunque vedo Che sta bene Anche gli occhi Mi risaltano Però vi giuro Che io come mi piace il biondo Cioè io mi piaccio Cioè io amo il biondo Amo le bionde Che ci posso fare Però Io mi vorrei scurire un po' Però non tantissimo Comunque Voi fatemi sapere Nei commenti Che ne pensate Poi volevo dire Sta cosa Volevo dire anche Che come al solito Non mancano Cioè devo dire La verità 99% di voi carinissime Mi avete dato dei consigli Poi veramente Sta sempre l'1% Di persone Un po' stupide Io ci tengo A dire questa cosa Alcune persone Hanno scritto Su Instagram Sembri un trans Oh mio dio Sembri un uomo Sembri un trans Sembri un trans Cioè secondo me Utilizzare Sembri un trans Come un'offesa È veramente vergognoso Nel 2022 Perché dopo tutte le battaglie Contro le discriminazioni Tutto Anche quello che fanno Comunque Quello che facciamo noi Influencer O comunque persone Che comunque hanno un seguito Per far accettare Le minoranze Le diversità Per il body positive Eccetera Usare come offesa Sei un trans Per me È vergognoso Perché Cioè a parte il fatto Che ci sono dei trans Bellissimi Cioè le donne trans Dico donne trans Perché se si fa il percorso Di transizione Diventi una donna Quindi per me Non sei neanche più trans Ma sei donna E usarlo come offesa È veramente vergognoso Perché comunque Immaginate Se una persona Che legge col commento È trans Come si deve sentire Che voi lo utilizzate Per offendere Ovviamente Cioè queste persone Avranno dovuto dire Mamma mia Si vede Come hanno scritto altre Si vede Che una barbucca Sono finta Anche se tantissime Pensavano fossero Fossero vere Nelle foto Se fosse vero I capelli Mamma mia Sembrano finte Mi sembra che è una parrucca Si vede che è una parrucca Non so Però dire Semmi un trans Mi è vergognoso Anche perché Vi ripeto Cioè si sono trans Veramente bellissimi Bellissime Donne trans Che non sono Cioè non sono neanche più Da definire trans Perché sono donne Cioè veramente Sono donne E sono bellissime Quindi smettiamola Con queste offese Perché è veramente Fuori luogo Proprio nel 2022 Dopo tante battaglie Che si fanno Per far accettare Comunque sono persone Che già comunque soffrono Comunque devono affrontare Dei percorsi Poi mettete pure voi Con i vostri commenti stupidi E io non lo tolgo E lo vi dico la verità Quindi Anche se simulano trans Io lo prendo Comun complimento Perché Sanno certi trans Che sono troppo bello Veramente E sono curatissime Tutte belle Loro Quindi adoro Veramente Cioè Quindi basta Questo volevo dire Spezzano la lancia Perché so che mi seguono Tante persone Anche appartenenti Alla comunità LGBT Vabbè Comunque Gay Trans Bisex Insomma Eccetera Quindi io sono Sono proprio contro Queste Queste etichette Queste discriminazioni Queste offese Proprio zero E basta Iniziamo a dire questo E se c'è qualche mia follower Trans Che mi vuole invitare A foco a cofustine Andiamo a ballare insieme Ci divertiamo E vengo E metto la mia parrucca E vengo a ballare E mi diverto Niente Stop Fine Quindi basta Questo volevo dire Amate la vita E amate E rispettate gli altri Non c'è Mi dovete credere La bellezza più bella Cioè La caratteristica più bella Di una persona È il saper Essere educati E rispettare gli altri E far stare bene Gli altri Quindi non offendere gli altri Se voi avete queste caratteristiche Gentilezza Educazione Rispetto Degli altri E delle vite altrui Secondo me Avete già tantissimo Questo volevo dire E nulla Comunque io Vabbè Poi Detto ciò Io accetto tutte le Le critiche Ma pure le offese Ormai Dopo 10 anni Che sto sui social Ok Però Mi dispiaceva Se qualche mia follower Insomma Leggeva questa cosa E magari qualche trans Si doveva Si sentiva mortificato Insomma Non è bello Tutto qua Non perché io Mi sia offesa Di questa cosa Anzi Vi ripeto Lo prendo come un banto Detto ciò Mo facciamo Il cambiamento Dei capelli In diretta Umaro Così mi dite Come sto meglio Allora così Sono bruna Però mi dovete dire La verità Raga Perché io poi Veramente nel prossimo vlog Mi vado a cambiare capelli Quindi mi fido di voi Lo so che questa qua Vi ricorda Carlita Delle origini Con le manine Però Il cambio Uh mamma mia Che emozione Double brunette Forse mi dovrei pettinare Umaro Raga Mi assina le pulizie Domani quando vedrà Verrà in questa stanza Conciata così E troverà parrucche Cosa Vabbè Ormai non si stupisce più Raga A blonde Vedete Questo colore È più o meno Il mio Originale Un castano Molto scuro Che ne pensate Vi fido solo di voi Ora mi vado a allenare Vi faccio dire un po' di scenetta Voi mi raccomando Andate sul sito Oceans Che avete il link Direttamente alla promo Nel box info Piegatevi Se i completi Prima che vadano Il soldato Perché poi Inizierò a finire le taglie Carnita dolce 40 Raga guardate che bello Naila Cioè è bellissimo Fa un punto vita Bellissimo Anche il seno E anche il gluteo Guardate che bell'effetto Che fa sui glutei Glutei Naila Cioè adoro Bellissimo Anche il punto vita Cioè lo amo Bello 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 Mi vado un po' ad allenare Faccio dire anche con la maglietta Raga guardate che bello Pure con la maglia Cioè adoro Diventa tipo una tuta Cioè è bellissimo Guardate che bello Cioè adoro Questo c'è anche di altri colori Bello 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 Guardate il punto vita E poi diventa tipo una tuta Cioè è stupendo Con le costine Cioè lo amo Cioè adoro Se poi magari uscite così Se avete caldo Mentre vi allenate Ve lo togliete E rimanete col top Consigli per la dieta Visto che sempre mi chiedete Anche su Instagram Allora Per merenda Uno di questi yogurtini Sono buonissimo Questo Buonissimo Con le noci Ma anche questo qua Mi piace un sacco Giusto per cambiare Per non mangiare quello bianco I frutti rossi Io li metto sempre nello yogurt Questa è la Philadelphia Quella proteica Che io Metto sulle fette biscottate Al mattino Ed è molto molto light Ancora più light Di quella light Insomma Poi Se volete cambiare Magari non vi stufate A mangiare yogurt Fette biscottate Albume Al mattino potreste mangiare Anche questo Con un cappuccino di soia Perché comunque Sono light Questi sono integrali Queste sono le fette biscottate Integrali che mangio io Sono buonissime In alternativa Invece come pane Per accompagnare i piatti Pane azimo Questo super dietetico Leggero Queste bruschettine Integrali Questi crostini Anche mi piacciono tantissimo Se invece cercate qualcosa Di dolce Però light Biscottini Questi qua Molto molto buoni Raga Integrali Con gocce di cioccolato Molto molto carini E poi sempre le gallette Anche se le gallette Ne sto mangiando Un po' di meno Preferisco Pane azimo Freselline E anche questo qua Questo è pane Integrale Ovviamente Sceglietelo senza Olio di palma Un poco più light Senza la crosta Fonte di fibre Vedete Questo qua Lo potete fare anche Tostato Nella frigidrice Ad aria O nel forno Viene buonissimo E poi qua Preso sempre dal mio mobile Per farvi vedere Queste anche sono buonissime Sono fette biscottate di farro Eccole qua Che le uso Anche come pane A posto del pane Perché non hanno zucchero Quindi sia In versione dolce Che salata E poi lo pregeteci ad aria Perché sto preparando la cena E pane azimo Questo mi piace tantissimo Il mio preferito Questo biologico Buono 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 Senza levito Vedete Quindi praticamente È super super light E anche questi crostini Integrali Vi piacciono molto Quindi Vedete che potete Veramente spaziare Poi come fonte di carbs Ovviamente Resta sempre Risobasmati Risobintegrare Anche la pasta Comunque si può mangiare Ovviamente Nelle dovute Quantità Soprattutto se dovete Perdere peso Ovviamente Dovete comunque Diminuire la quantità Di Carboidrati Eccetera Comunque Rivolgetevi sempre A un nutrizionista Soprattutto Se non sapete Approcciarvi A questo stile Di vita È bene Comunque Rivolgervi sempre Sempre A un nutrizionista Mi raccomando Guardate che belle Le zucchine Nella frigidrice Ad aria Oddio Si è appannato tutto Pane azimo Lo riscaldo Nel microonde E aggiungo sale E olio Buonissimo Ed eccole qua Ma voi dovete vedere Queste polpette Ci sembrano fritte Ma ovviamente Non sono fritte Ma sono fatte La frigidrice Ad aria Adoro Le zucchine Sempre frigidrice Ad aria Pane azimo Con le sale E qua ho fatto Un po' di questa Filadelfia Semplicemente Ho messo Un po' d'acqua Un po' di erba Cipollina Un po' di cipolla In polvere Ma guardate Che meraviglia C'è questo piatto Buonissimo Adoro Lei qui Pupi Saluta Ciao Comunque Troppo Troppo buono Veramente Super Le polpette Come le ho fatte Perché già so che mi chiederete Semplicemente Io metto Macinato di tacchino Di pollo Perché è più magro Un uovo Per due Quindi tutte queste polpette Un po' di pan grattato Sale Pepe Un po' di aglio in polvere Prezzimolo in polvere Queste spezie E poi metto Anche la fissa di tacchino A dadini Viene molto più buona E poi le metto In fricicida ad aria Con una spizzatina d'olio Faccio vedere Vedete Ho aperto dentro E farvi vedere Mettendo i pezzettini Di fissa di tacchino O anche di prosciutto cotto Viene ancora Ancora Più buono E comunque Più saporito Ma è comunque light Provate E lasciate tanti like A questo video E ci vediamo su Instagram Pane Padella Piatto Carote Bimba Scopa 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 Cassetto Tocciotto Tavolo Tavolo Cucina Mela Mela Rimane Uva Uva Banana Mamma Ciliegie Patata Piselli 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 Settarri Fragola Settarri Specchio Specchio Asciugamani Tappeto Macchina Lavandino Finestra Sgabello Bambina Mio mamma Dentificio Bimba Lui dice Spazzolino Pasca Bagno Bambina Can Bambina Pagno E Bambina Grazie a tutti.